Ben ritrovati amici qui alla Grosso Vacanze di Genola. Oggi vi parlo dello Chasson Corus 634, un veicolo con dimensioni ridotte, si parla di un veicolo sotto i 6 metri e 50, montato su meccanica Ford 2130 cavalli. È composto internamente in modo molto particolare, come potete vedere ha una dinetta delle con sedili girevoli su cui posano due basculanti elettrici singoli. Passando posteriormente si trova la cucina con i tre fuochi, il frigo trivalente automatico a 100 litri, un bagno con la doccia separata e posteriormente un'altra dinetta su cui posa invece un basculante elettrico a due piazze. Il tutto è impreziosito da un ampio garage. Il prezzo di listino del veicolo è di 54.290 euro, ma per questa settimana potrà essere vostro a 49.900 euro su strada, comprensivo della radio montata dalla Ford con comandi al volante e della retrocamera. Io vi aspetto qui per visionarlo.